Ma che state a fare qua voi due? Eh? Che state a fare? Ha detto che stai a fare? No, che stiamo a fare? Che state a fare? Sospettare la manifestazione. Ah, manifestazione. Ma doveva partire le due? Parte le tre, le tre parte. Sì, pure se parte le quattro. Sono quattro gatti. No, guarda, occhio e croce, 110 persone. Senti una cosa, ma voi siete contrari a RTTIP? Eh? TTIP? Che cazzo è? Vedi, te saluto. Che sta a fare qua? Non sono al contrario, però sono paurevole, lo sai che? Eh? RTTT. RTTT. Ma io sono qui per... Ma una bella bistecca ormonale di quelle greche. No, mangiamo il pesce. E pure quello? Mi mancano i gomiti. Pure il pesce, gli addiranno. I gomiti, capire? Pelle e ossa, insomma. Mangate un bello. O struzzicadette. Ma attacco alla terza gamba di un bello. La bistecca americana ha gli ormoni. La carne ne mangio poco perché mi la posso per me. E il pesce? Il pesce è quello che pesco io. A dove pesco? A dove? Ma a te, ti arriva per forza in America. Ma perché pensi qui al McDonald's, qui in Italia, l'olio non è fritto, rifritto, rifritto. No, ma che sta a Dio, cambiano l'orto ogni settimana, hanno... Ma non io prego niente adesso. Hanno fatto, no. Senti, ma secondo te, no, del popolo bue, allora 2.800.000 abitanti fa Roma, no? Eh? De sto popolo bue, quanti ne verranno qua? Verranno 1.500, Diego. 1.500? Ah, 1.500. Ah, 1.500. Ammazza uno. Già io. È in successione allora. 1.500. Ah beh, stai mi aspettando, va. 1.500 domenica, va. Stai mi aspettando, dai. 1.500 domenica, va.